Buongiorno Fabio, allora principessa biondissima, bellissima, tutto a posto, tutto a posto, è un'acconciatura spettacolare, bravissima la tua titolare, davvero una cosa meravigliosa e ne ancora mai vista, allora che ci racconti? E' stato bellissimo la scelta dell'abito e voi siete fantastiche, presenti in tutto e basta, siete superi. L'abito sei rimasta contentissima? Sì, è bellissimo, è la nuova dei miei sogni. Davvero? Sì. Questa è quella più te scelta, io gli facevo provare degli altri, ma lei voleva questo. Perché consiglieresti un sposa modello a una sposa? Perché sono ospitali in tutto, sono gentili, ti rilassano e tutto quanto. E poi hanno degli abiti superbi. Buongiorno, grazie mille, grazie a voi. Grazie mille di essere qui con te, con una numerosa famiglia e ti ringraziamo di aver fatto tanti chilometri da Volterra, fino a mezzo a mano per l'abito del giorno ci bello, no? Sì, sì. Vai, grazie mille. Grazie mille, grazie a voi.